Tutti sulla neve montagne prese d'assalto Pesaro riemerge il problema sicurezza in Galleria Roma Case bruciate convive con la via principale chiusa per 20 giorni Pesaro ospiterà i mondiali di aerobica Sport la VL rimedia una batosta in Sardegna Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Oggi è lunedì 30 gennaio Apriamo questa edizione mostrandovi in questo prossimo primo servizio Le immagini che ci arrivano dalle nostre bellissime montagne Catria, Nerone, Carpegna Infatti in questo weekend sono state ricoperte dalla neve E letteralmente prese d'assalto da visitatori Con un grande beneficio all'indotto economico dell'Appennino Ma anche con qualche problematica relativa alla viabilità Tanta neve, tantissima gente Risultato, montagne letteralmente prese d'assalto Dal Catria al Nerone fino al Monte Carpegna è stato un sold out su ogni cima In un weekend che ha dato giovamento alle comunità appenniniche E allo stesso tempo ne ha messo a dura prova la capacità ricettiva A Carpegna la prolocola ha definita un'affluenza senza precedenti Infatti al passo cantoniera si è dovuta chiudere al traffico la strada provinciale Che conduce all'impianto con il comune che si è impegnato a lenire il disagio Mettendo a disposizione una navetta gratuita per l'intera giornata Ai tanti visitatori del comprensorio del Carpegna Questa neve ha risvegliato quella che è la vocazione turistica di Carpegna Una vocazione invernale E quindi è stato senza dubbio un ottimo volano per l'economia Tutti i locali hanno lavorato Gli impianti civistici hanno lavorato E questo ci ha dato una grande soddisfazione Detto questo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile Questo weekend l'hanno reso più bello Parlo della protezione civile Parlo di tutte le forze dell'ordine Che hanno consentito una buona viabilità E quindi anche i dipendenti comunali Che si sono adoperati per rendere più fruibili le strade Perché la neve è bella Però crea anche un disagio E questo è stato ammorbidito Dall'operato di tutte queste persone Anche sul comprensorio scistico del Catria È arrivata gente da ogni direzione Dalla costa, dall'Umbria e pure dalla Romagna Un pienone che attorno a mezzogiorno Ha costretto a chiudere gli imbarchi a valle A fronte di parcheggi stracolmi I più mattinieri hanno però potuto godersi sciate Discese con Bob E ciaspolate su neve abbondante Che consentirà aperture fisse per i prossimi giorni Idem sul Monte Nerone Dove a dispetto della nebbia È stata abbondante la presenza sulle piste È il rifugio Chalet Principe Corsini Sabato e domenica sono stati due giorni come meteo Non favorevole perché c'è stata un sacco di nebbia Però la montagna piace sempre Il Nerone piace La neve così tanta era un po' che non si vedeva Quindi la gente ce n'è stata moltissima Abbiamo fatto pienone tutti i due giorni Quindi non ci possiamo lamentare Le piste sono tutte aperte Tutte molto ben innevate Quindi le condizioni migliori che si potrebbero avere A livello di temperatura Con questa neve si potrebbe tranquillamente arrivare a marzo Inoltrato perché ce ne sono circa un metro, un metro e venti Questa settimana saremo aperti tutti i giorni E faremo anche una notturna mercoledì sera Dalla montagna ci spostiamo al centro di Pesaro Dove tornano a riemergere vecchie criticità irrisolte del centro storico In particolare in questo prossimo servizio Andiamo ad analizzare il problema sicurezza nella Galleria Roma Problematica che torna a ripetersi dopo diversi episodi Già segnalati anche negli scorsi servizi di Rossini TV Non bastasse una riqualificazione che viene periodicamente rimandata A causa delle difficoltà strutturali al di sotto della pavimentazione Galleria Roma continua pure a convivere col problema sicurezza Con bivacchi di senza fissa dimora Ed episodi di ubriachezza più o meno molesta Tornati all'ordine del giorno Un problema silenziatosi un po' nei mesi scorsi Ma un problema che di fatto era stato solo spostato E che torna a ripresentarsi con residenti ed esercenti commerciali Che lamentano la difficile convivenza gomito a gomito Con questa compagnia poco raccomandabile I disagi che ci creano purtroppo per loro Perché sono dei... ci dispiace anche Perché sono dei disadattati Però creano disagio perché stazionano frequentemente Quasi sempre dalla mattina alla sera In galleria E hanno il vizio del bere Soprattutto Perciò abbiamo diverse fasi durante la giornata Dal mattino che sono abbastanza tranquilli Però ha già la birra nelle mani E arrivi alla sera Ne abbiamo viste un po' di tutti i colori Cioè sono successe anche situazioni sgradevoli Dove si azzuffano Dove litigano Dove alzano la voce Disturbano Posso dire che noi abbiamo un'attività commerciale E anche i nostri colleghi Siamo tutti dispiaciuti di questo Non sappiamo cosa fare Abbiamo provate tutte Abbiamo fatto delle raccolte delle firme Grazie anche al patrocinio gratuito Della avvocato Tasini, Milena Che abbiamo fatto una denuncia querela Praticamente Un esposto Non so come chiamarlo E presso le autorità Prefetto, prefettura, questura, il sindaco Non abbiamo neanche avuto risposta A questo credo un anno scorso Un paio di anni fa Che dire È una situazione difficile Una situazione che complica la quotidianità di chi lavora Eppure il rapporto con la clientela I clienti posso assicurare Che tutti quelli che entrano La prima cosa che dicono Avete una bella compagnia qui davanti Ci sentiamo un po' in difficoltà Abbiamo anche paura Noi trattiamo preziosi Siamo gioieglieri Trattiamo l'oro Da noi vengono E hanno l'oro Non è che vengono per comprare le caramelle o la frutta Di conseguenza è una situazione Non so come dire Non va bene Non è che sono pericolosi Ma non si sa mai Io sono stato anche minacciato Ti sparo la vetrina Ti rompo la vetrina Per non dire mia moglie Ne dicono di tutti i colori Perché diventano anche invadenti Perciò non è che si limitano a stare lì e basta Diventano invadenti Diventano dei coinquilini Sinceramente Si prendono anche delle libertà E delle confidenze Che non è il caso Le forze dell'ordine Le chiamiamo quasi tutti i giorni Vengono Fanno il loro dovere Non posso dire nulla Assolutamente Soltanto che non possono fare più di tanto Li allontanano E loro dopo 5 minuti ritornano Cioè questa è la situazione Dal centro di Pesaro Passiamo alla periferia di Pesaro Sempre in particolare In questo caso Nella frazione di case bruciate Che da oggi deve convivere Con un problema di viabilità Da questa mattina Infatti Strada delle case bruciate Principale via del quartiere È stata transennata Per i lavori di Marche Multiservizi Relativi alle opere compensative Di società autostrade Per il casello dell'A14 Per i residenti Percorsi alternativi Per raggiungere l'abitato di case bruciate Sono strada degli Sminatori Via della Selva Grossa Strada della Campanara E strada Raschieto Per gli studenti È stato invece riorganizzato Il trasporto scolastico Con autobus Che hanno variato Sosta e orari della fermata Strade chiuse E strade pericolose Come via Pantano Dove nonostante Il limite dei 30 km orari Si è verificato Un nuovo incidente frontale Che vi mostriamo In queste immagini Che ci ha inviato Un nostro telespettatore E che chiaramente ringraziamo Si tratta di uno scontro Avvenuto sabato scorso Intorno alle ore 20 Fra un SUV Range Rover E una Kia Picanto Che ha visto intervenire Il 118 Ma per fortuna Non si sono registrati feriti gravi Vi ricordiamo come sempre Il numero per inviarci Le vostre segnalazioni Al 370-366-72-10 In questo fine settimana Pesaro ha attributato L'ultimo saluto Ad Oscar Piattella Il grande artista E' scomparso infatti Lo scorso giovedì A 90 anni E dopo tanti anni Da residente di Cantiano Ha scelto di essere Seppellito a Pesaro Città dove è nato E dove è cresciuto Una bara attorniata Di fiori blu Ricoperta dalla forza espressiva Di quei colori accesi Tratto distintivo Di una lunga E fervente vita artistica Sabato pomeriggio Il Duomo di Pesaro Ha tributato L'ultimo saluto Ad Oscar Piattella L'artista Della luce E della materia Scomparso giovedì All'età di 90 anni Piattella Da tempo Viveva e lavorava A Cantiano Ma aveva fatto Esplicita richiesta Che il suo funerale Fosse a Pesaro Così come la sepoltura Nel cimitero centrale Don Stefano Brizzi Ha ufficiato Una cerimonia intima Alla presenza Dei parenti di Piattella Ed istituzioni Mondo della cultura Dell'arte E dell'imprenditoria Che hanno intrecciato 65 anni Di incessante Produzione artistica Da Pesaro A Fano Da Cagli E Cantiano Fino ai tanti rapporti Intrecciati Con la vicina Umbria Presente anche Lo scultore Giuliano Vangi Che con Piattella Condiviso Fino a pochi giorni fa Una pluridecennale Stagione culturale d'oro Del nostro territorio Dopo una vita trascorsa A immaginare il mondo Con la sua personale Visione artistica Oscar Ora guarderà Cosa c'è dall'altra parte Lasciando una terra Straordinariamente piena Di inestimabili tracce Del suo passaggio Ed ora cambiamo argomento Perché il contratto Dei 30 lavoratori Interinali Dell'azienda Sanitaria territoriale Pesaro Urbino Sarà prorogato Fino al 31 luglio 2023 Lo assicura L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini Rispondendo Alle preoccupazioni Emerse negli ultimi giorni Dopo il cambio Della direzione Dell'azienda sanitaria Da Maria Capalbo A Gilberto Gentili Conclusi i contratti Verranno poi indetti Concorsi pubblici Per acquisire figure Professionali Equivalenti Il biolaboratorio Che sorgerà Alla Torraccia Non ha nulla a che fare Con il laboratorio D'analisi Biolab Con diverse sedi In provincia Una precisazione Che il direttore Michele Carcinari Intende sottolineare Dopo alcuni equivoci Sorti Proprio su questa questione Cosa potrebbero mai Avere in comune Un laboratorio Di analisi mediche Ed un laboratorio Di biosicurezza Per la sperimentazione Di agenti virali E patogeni su animali Probabilmente il nome Ed è per questo Che è scoppiato Il caso Biolab Un equivoco Che da qualche settimana Staparte Sta investendo L'istituto di ricerca Biolab Un laboratorio Di analisi chimico-clinica Sparse sul territorio Pesarese Per essere stato associato Da diversi pazienti Al laboratorio Zoprofilattico BSL3 Sempre intitolato Biolab Che dovrebbe sorgere Nel quartiere Di Torraccia A Pesaro Abbiamo ricevuto Alcune telefonate Segnalazioni Da nostri pazienti Che chiedevano Informazioni Su il laboratorio Che stavamo Aprendo A Pesaro E sono rimasto Un po' sorpreso Perché non stavamo Aprendo Nessun laboratorio A Pesaro Poi ecco Ho scoperto Che si trattava Di un laboratorio Dell'istituto Zoprofilattico Che ha il nostro Stesso nome Biolab Biolab è un nome Abbastanza inflazionato Nei laboratori Di analisi cliniche Ma ci occupiamo Di cose Totalmente diverse Noi siamo Un laboratorio Di analisi Mediche Facciamo analisi Chimico-cliniche Come un ospedale Per capirci Il laboratorio Che forse Se aprirà a Pesaro Sarà un laboratorio Legato all'istituto Zoprofilattico E faranno analisi Su animali Da una parte L'assistenza medica Ai pazienti Dall'altra La sperimentazione In vivo e in vitro Di animali E la costruzione Di allevamenti intensivi Quello che si è venuto A creare È il più classico Dei malintesi Due nomi identici Ma attività e ricerche Completamente diverse Un'incomprensione Che ha portato Numerosi cittadini A telefonare a Biolab Lo studio Di analisi chimico-cliniche Per chiedere ulteriori spiegazioni I pazienti che ci conoscevano Ci hanno chiamato Per chiedere a noi Informazioni Su questa struttura Che sta aprendo Pensando Ripeto Che fossimo noi Erano preoccupati Di questa cosa E volevano informazioni Alla fonte L'assessore del comune Di Pesaro Enzo Belloni Segnala Con sdegno Che in questo weekend Si sono verificati Furti Di anatre e ocche All'interno del parco Miralfiore Animali che da sempre Stazionano Fra l'area naturalistica Recintata E il vicino Stagno E che ora Diventano addirittura Oggetto d'attenzione Per i ladi Per comune Polizia locale Si aggiunge dunque Un altro spiacevole Episodio Di micro criminalità Da monitorare All'interno del parco Altri segni Di ripartenza A Cantiano Questa mattina Infatti è stata inaugurata La nuova sede Del sindacato Will In via dei Cappuccini Dopo che il vecchio locale Di via 4 novembre Fu invaso Dalle acque del Burano Rendendo l'ufficio Inagibile E chiuso Per quattro mesi Un taglio del nastro Di speranze Per un altro servizio Riaperto Ai cittadini Anche il comune di Mondolfo Entra a far parte Degli itinerari Della bellezza Il direttore Di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti Ha sancito l'accordo Con Nicola Barbieri Il sindaco di Mondolfo Quarto comune Per popolazione Della provincia Di Pesar Urbino Che ora avrà Un'importante Nuova cassa Di risonanza Di promozione Mondolfo È il ventunesimo comune Che aderisce Agli itinerari E proprio Confcommercio È fra i soggetti organizzatori Della doppia presentazione Del libro Di Beba Marsano Vale un viaggio Che sarà illustrato Giovedì 2 febbraio Alle ore 18 Alla biblioteca Oliveriana di Pesaro E venerdì 3 febbraio Alle 11.30 All'hotel Ristorante La Palomba Di Mondavio Nel libro La giornalista Del Corriere della Sera Che ha partecipato Al press tour Di Confcommercio Per la valorizzazione Turistica Degli itinerari Della bellezza Racconta Alcune eccellenze Del nostro territorio Che per l'appunto Valgono un viaggio A Pesaro Dal primo febbraio Si potrà far richiesta Della carta famiglia Che il comune Ripropone Per l'undicesimo anno Si tratta di una carta Che permette Sconti Negli esercizi Commerciali Esenzione Della retta Dell'asilo Per il quarto figlio O per i figli in affido Agevolazioni Sulle tariffe Di abbonamento Ai parcheggi E sconti Su prestazioni mediche Specialistiche La carta famiglia Offerta gratuitamente Alle famiglie pesaresi Particolarmente numerose Con un valore ISEE Inferiore A 25 mila euro O alle famiglie Con un minore In affidamento O adozione Con un minore Di 26 anni In condizione Disabilità O con figli Minori In condizione Di disagio Socio-economico In carico Al servizio sociale Professionale I nuclei familiari In possesso Di questi requisiti Possono richiedere La card Tramite il modulo Online Disponibile Nel sito Del comune Nel 2024 Pesaro Ospiterà I campionati Mondiali Di ginnastica Aerobica Questa bella notizia È stata presentata Questa mattina In comune Vediamo Non solo Capitale della cultura Per il 2024 Il comune di Pesaro Scalda i motori Anche su un evento Sportivo Di richiamo planetario Farà tappa Proprio in città Il 18esimo Campionato Mondiale Di aerobica Che a settembre 2024 Vedrà La Vitri Frigo Arena Ospitare Atleti E spettatori Da tutto il mondo In un evento Presentato oggi In comune Si tratta Dei 18esimi Campionati Mondiali Di ginnastica Aerobica Una disciplina All'interno Delle competizioni Mondiali Purtroppo ancora Non disciplina Olimpica Speriamo che lo diventi Presto È importante Per Pesaro Perché dà Continuità A un progetto Con la Federazione Ginnastica D'Italia Iniziato Nel 2018 Quando qui Ospitammo Il Golden Age Gym Festival Proseguito Nel settembre 2021 Quando sempre La Vitrifrigo Arena Come Esatur E Pesaro Gym Organizzammo Il campionato europeo Di ginnastica aerobica Ed acrobatica E chiaramente L'asticella Si alza sempre di più E dal campionato europeo Siamo arrivati Ad essere Designati Per l'organizzazione Di un campionato mondiale Una Designazione Che naturalmente Ci riempie di orgoglio E speriamo di non tradire Non lo faremo sicuramente Nelle aspettative Della città che ci ospita Pesaro Chiaramente La mia città E Nè della federazione mondiale Che ha riconosciuto La nostra professionalità Concedendoci questa opportunità Questa È una manifestazione speciale Non anno speciale È l'anno delle olimpiadi L'aerobica non è olimpica Per cui Diventa l'appuntamento Importante per l'aerobica Arriveranno da tutto il mondo Tanta gente Per Pesaro È una grandissima cosa Dopo tre anni Tornerà l'aerobica Nella nostra città E ai grandi rivelli Ricordo i campionati europei Del 2021 Che hanno avuto Tre settimane di sport Alla vitrifrigo arena Ritorniamo Rilanciando questo progetto E ampliando Quello che sarà Il parterre di pubblico Che ci sarà Nella nostra città E di grandi atleti Siamo soddisfatti Perché siamo una città Che negli anni Ha sempre puntato Sullo sport E sull'impiantistica sportiva E questa è la dimostrazione Di come Pesaro In sinergia Con soggetti privati Abbiamo qui le scuole Anche della nostra città Possa fare grandi progetti Per lo sport pesarese Ancora una volta Le realtà di Pesaro Collaborano a stretto contatto Per realizzare qualcosa All'altezza delle aspettative Includendo in un evento Di questo calibro Anche l'istituto d'arte Mengaroni Che avrà il compito Di realizzare il logo Di questi tanto attesi mondiali La premessa è che più che mai Ci sentiamo onorati Gratificati Non mi vengono altre parole Perché È una manifestazione mondiale Che ricade sulla nostra Responsabilità E quanto mai edificante Edificante per un insegnante E per i suoi studenti Cercheremo di fare il lavoro Al meglio che possiamo Con tanto, tanto, tanto Senso di responsabilità E gioia L'appuntamento quindi È per settembre 2024 Lo so che sembra lontanissimo Ma saranno 20 mesi In cui saremo impegnati Assiduamente Nell'organizzazione di questo evento Abbiamo deciso di stabilire le date Nella seconda quindicina Del mese di settembre Immediatamente dopo la fine Della fiera di San Nicola In modo anche da dare Una continuità e un prolungamento Alla stagione turistica Della nostra città Permettendo alle attività Commerciali E anche alle attività Alberghiere Di appunto Destagionalizzare Grazie a questo evento sportivo La propria attività Chiudiamo il nostro telegiornale Come di consueto Del lunedì Dedicandoci allo sport E quindi in questo prossimo servizio Vediamo quali sono stati i risultati Delle squadre locali La VL torna dalla Sardegna Con una batosta Che sconfina Oltre ogni peggiore previsione A Sassari Finisce 110-74 La debacle Di una Carpegna Prosciutto Basket Mai in partita Che incassa Un meno 36 finale Tracimato di quarto in quarto Toccando anche un momentaneo Meno 43 Citam C'è la popolo Settote Fra i meno peggio Di una prova Da bocciatura collettiva Attenuata da una classifica Che non si sconvolge troppo La VL resta quarta Raggiunta a 20 punti Da Varese Pareggio irritante Invece per l'Ital Service Che a quattro giorni Dagli ottavi di Coppa Italia Vinti per 4-2 Ritrova al palafiera La L84 Torino E questa volta Finisce in parità 1-1 Con De Oliveira Che mette Pesaro Col muso avanti Poi raggiunta nel secondo tempo Finale nervoso Con lo stesso De Oliveira Che viene espulso Per un secondo giallo A causa di una spinta A un componente Della panchina piemontese Che ostacolava Una rimessa laterale offensiva Per l'Ital Service La classifica Torna in galleggiamento Alla zona play-out Facendo un passo indietro Dalla domenica al sabato Nel calcio La Vispesero Torna con un punto d'oro Dal derby di Ancona Al Del Conero Finisce 1-1 Con i Dorici Che passano Dopo 20 minuti Con un rigore Fortemente contestato E trasformato Da Melchiorri Attaccante a lungo Corteggiato dalla VIS In questa sessione di mercato L'Ancona Domina per altri tre quarti d'ora Con la VIS che però Resta in partita E colpisce con estremo cinismo Quando al 68esimo Il nuovo acquisto Gerardi Lavora un perfetto pallone Per il colpo di testa Di Gazzolini Che sigilla L'1-1 definitivo Per la VIS Per la VIS già vigilia Di altro match delicatissimo Martedì sera Arriva la Torres Nell'infrasettimanale Del Benelli In Serie D Trasferta romana Amara Per il Fano Che cade 2-1 In casa del Trastevere Terza forza Del torneo Solo accennata La rimonta Dal gol Granata Di Drolet Nel finale Passando al rugby Altotti Patrignani Di Muraglia La Fiorini Pesero Lotta Ma è costretta A cedere l'intera posta Alla capolista Lazio Che fa valere la sua forza E sbanca La casa giallorossa Per 8 a 24 Eccoci arrivati Alla fine del nostro Telegiornale Carissimi amici Però vi consiglio E vi ricordo Che dopo questa prima edizione Delle 19.40 Ce ne sarà La replica Quindi un'altra edizione Alle 20.40 E poi Andiamo a raccontarvi Anche quella Che sarà La prima serata Come sempre La prima serata Su Rossini TV Parte intorno Alle 21.20 E a lunedì Trovate sempre Lo spazio Dedicato a CECAP Obiettivo Salute Questa sera Si parlerà Della riabilitazione Della spalla E lo faremo Con il dottor Marco Filippini Che è fisioterapista E poi stasera Alle 22 Potrete rivedere La partita Che si è disputata Questo scorso Fine settimana Pesero Rugby Contro Lazio Rugby Domani Torna la nostra Rassegna stampa Vi aspetto Ci sarò io con voi Alle 7.20 In diretta Vi ricordo sempre Che siamo in diretta Non solo sul canale 80 Siamo in diretta Anche sulla nostra Pagina Facebook Sul nostro sito Rossini TV E sulla nostra Applicazione Che vi consigliamo Sempre di scaricare Gratuitamente E dopo la bella Giornata di sole Che abbiamo avuto oggi Vediamo come sarà Il meteo Per i prossimi giorni Grazie E buona serata